bello a tutti ragazzi e benvenuti con il nuovo video io sono Pikachu e ho disbottonati in Brawl Stars oggi faremo un bot open e in realtà non lo faremo, giocherò un po' che visto che stiamo andando le casse ragazzi a fare un bot open vedete qui abbiamo una cassa e qui devo arrivare a 10 casse ho 7 casse, una gratuita qui, quindi siamo 8 e una Queen nel corso dei trofei che sono 9, poi abbiamo una cassa enorme, dobbiamo arrivare a qualche 2 casse enormi o una lasciamone, scrivete nei commenti se volete 2 casse enormi o una oppure 11 o 10 casse piccole, quindi scrivete qui nei commenti se volete 10, ultima cassa, perché poi vabbè andiamo a fare la partita andiamo con lui poi, ehm sta bello ok, andiamo con questo allora, col colto il coltazzo che ai 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 ai, sta per arrivare a lui, raga chiede il 31 ottobre vai poi arriva il pesce d'aprile e non vedo l'ora faccio del pesce d'aprile non vedo l'ora non vedo l'ora deve morire deve morire ma è questa la vita di abito e questa è la vita mia nooo dimmi che sono il 9 non vedo siiii 2 è il 10 c'è che cavolo di successo non lo so c'è non so cosa è successo raga non so cosa è successo non so cosa è successo no... ok muori, muori, bravo, 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 bravo acuccia acuccia dai acuccia oh ma questo è scatenato adesso le ho fatto vogliazzare guardalo maic l'ho uccisa poi si diretta un proiettile della morte no, muori tu e son morto io mortacci i miei c'è raga mi viene di bozzare e ti fanno un brawler c'è un brawler allora raga dovete andare via a vedere lo scorso video dove ho trovato la star power di air freeware con una cassa e non la star power è dove va veloce cioè bellissimo e allora pure se trovavo un brawler oppure la la tablita stellare di air freeware va poco è bella pure ma pure questa è bella va veloce però soltanto quando all'artmate quando fa quando all'artmate e fa l'artmate o la che è la super va veloce per quattro secondi cioè più veloce di pace in realtà va per quattro secondi va veloce qui adatta per quattro secondi si qui sta ora va in trappola perché deve morire ok muore 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 non so che c'è uno qui ora lo ammazzo ah no non c'è da qui vedi questa cassa dai vedi questa cassa ehi vedi questa cassa vedi questa cassa raga ora sta dai free ha muore mortaccini mi sono messo nei pari degli altri devo ricaricarmi l'artmate devo ricaricarmi l'artmate posso provare accuccia accuccia 8 bit devo giocare ti sei un attimo fermo chi ti ha fatto prendere vita dimmelo dimmelo chi ti ha fatto prendere vita è morta il primo era accuccia non è il primo non c'è su io mi ve l'ha fatto non lo so è un fantasma sono morto perfetto perfetto così diretto sono morto e poi poi andiamo a fare ok andiamo conti che è del tubo è carino è carino è carissimo è carissimo è carissimo ma non è più ok ok oh no è carico un po' di scivacetto crash proprio grazie andiamo tutti muori 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 ai 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 sono morto muori 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 è morta è morta che non mi ha affredito brava testolina testolina carabinero non l'ho così ah c'è qualcuno c'è qualcuno ok 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 ora vai ok 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 no sono morto perché questa chiedeltà perché ok è morto ok ok ma che cazzo ci faccio qui sono qui per questo dopo registrare non vi, ah questa costa a quella non è una bruca giocando qui dovremo essere un vento dai allora sono l'editorio oh baby hai evitato la ragazza c'è proprio lui non ci credo ciao raga noi tengo faremo la partita con grazze lega gg per lui Gigi per me anzi, beato me, c'ho lui come amico, pure un hacker, muori C'ho un amico che è uno youtuber, cavolo, quindi non c'è Sono felice di avere come amico Grazio Gigi Grazio, cioè guardate, Gigi Grazio, proprio lui Oh cavolo Ciao VQ Vieni qua Muori Ok, ti fai No, ce la sto facendo, perché? Bibi è bella molto Bibi è assolutamente bella perché c'è lì colpi, poi se hai poca vita spingi i brawler così Bibi è assolutamente bella, ma perchè? Bibi è assolutamente bella, ma non c'è lì colpi Bibi è assolutamente bella Bibi è assolutamente bella, ma non c'è lì colpi Bibi è assolutamente bella Bibi è assolutamente bella Io non lo so non so trovare nessun Broller, per questi due anni Cioè due anni che non trovo un brawler Non lo so ragazzi io vado Le apro Ragazzi se volete vedere come ti sei da aprire o no E ci vediamo